Signore e signore buongiorno, dal campo sportivo Papa Giovanni, incontro di calcio di terza categoria tra il Camerota e il Ceraso. La versità è incominciata in questo momento. Alla mia sinistra gioca il Ceraso con una maglietta gialla-blu, sulla mia destra Camerota, che la devi sapere. Solo dischetto. Saccinge a battere il numero 6. Tutto pronto? Tiro e gol. Alessandro Magliano viene schiazzato. Gol del numero 6 del Ceraso. Al secondo minuto, il Camerota a zero, Ceraso, il Cavaliere, sui piedi, nel mio lungo da Angelo Abba. Bombay. Va già al centro, dove vediamo l'arbitro dal calcio di ricordi per il trattenimento di Sasà. Per il trattenuto, anzi no. C'è un'ammunizione. La tenuta di Sasà, l'arbitro del calcio di ricordi. Siamo al ventunesimo minuto del secondo tempo. Vediamo alla battuta chi ci va. Ci va Mattia. Mattia è sul penale. Ecco Mattia. Fire e gol. Spiazza è il numero 1 del Ceraso. Ecco Mattia. Si incomincia. La partita è in varietà. All'avventunesimo minuto del secondo tempo, Camerota a zero, Ceraso a zero. Angelo Abba è sulla battuta. Di nuovo in aria del Ceraso, la battuta. Il potere riesce a vuoto. È gol. Ha segnato su un colpo di testa Pompeio questa volta e non ha mancato l'affrontamento del gol. Sulla uscita a vuoto del potere del Ceraso, Pompeio porta in vantaggio il Camerota. Ecco che l'abbraccano tutti i suoi compagni. Il Camerota al trentunesimo minuto del secondo tempo si porta in vantaggio sul Ceraso per due ore da uno. In questo momento l'arbitro dichiara fine dell'australità il Camerota, dopo 4 minuti e trenta, il Camerota fa solo la partita. Sul campo di Camerota, Papa Giovanni, Camerota due, Ceraso uno. Siamo con Giosuè Cremardi, giocatore del Camerota. Giosuè, come te ne pare della partita? Com'è andata? È stata una partita abbastanza bella, molto difficile. Abbiamo sofferto. Siamo andati in svantaggio, sì. Poi... Tardevamo 1-0, poi ha pareggiato sul rigore Mattia, mio cugino, perché segna solo sul rigore. In azione non sa segnare. Ma in dieci avete giocato meglio, Papa? Nel secondo tempo in dieci, perché è stata l'espulsione del nostro attaccante, Salvatore, purtroppo ha un po' la testa... Per doppia munizione. Per doppia munizione, però ci siamo svegliati, abbiamo fatto una bella partita, è entrato il nostro bomber, Scarpitta. Ho visto che hai fatto un bel gesto tecnico. È entrato Scarpitta, è su un calcio d'angolo, è arrivata una palla e mezzo, ho fatto una rovesciata, per poco non è entrata, purtroppo sono stato sfortunato. E poi è segnato all'ultimo, su a sestemio di testa, ho anticipato il portiere, è segnato Scarpitta, il 2-1. Siamo felici perché eravamo in dieci, però tutto sommato è stata una bella partita, è difficile. Salutiamo tutti e ci vediamo alla prossima. Grazie. Siamo con Mario De Cesare, mister del Ceraso. Mister, come mai? Ha dieci uomini sulla squadra e non è andato più avanti. Stiamo... è stato discorso la partita oggi, diciamo alla pari, con due squadre che diciamo si equivalgono dal punto di vista sia tecnico che noi abbiamo avuto degli episodi che ci hanno un po' compromesso tutta la stagione ormai, credo, perché abbiamo 4-5 persone per fatti sono avvenute alla parte col celare, quindi abbiamo molte assenze, in volte mancano dei centrocampisti, l'attaccante, i difensori, però stiamo cercando di continuare il campionato con dei ragazzi che sono 99, 2000, 98, quindi creando anche un gruppo diciamo di giovani che possono in un futuro dare un buon contributo alla squadra. Niente, la partita ha avuto un risvolto sull'espulsione del giocatore del Camerota. Noi stiamo conducendo dal serio grazie al rigore all'inizio del secondo tempo, c'è stato un episodio di rigore, vabbè, non discuto se ci sono arbitrali, non l'abbiamo visto bene, dalla panchina non si vedeva bene, comunque hanno pareggiato e poi abbiamo preso un gol, diciamo, un po' da polli, perché su una rispinta del portiere nostro si è trovato pronto, diciamo, l'altro accanto, il centrocampista del Camerota e ha fatto il secondo gol. Abbiamo sbagliato precedentemente un paio di azioni, abbiamo fatto un paio di azioni dove potevamo segnare, quindi raddoppiare, non c'è stata l'occasione, è andata così, va bene lo stesso, continuiamo con allegria e con coraggio oppure con i ragazzi più piccoli.